Quarto concorrente in gara, ha 26 anni, è nato a Sezze in provincia di Latina e come professione fa il pittore e il musicista, lo conosciamo meglio, si chiama Silvio Frainetti. Baciamoci pure. Un bel bacetto ci vuole. E' emozionato? Insomma no, poco poco. Musicista, pittore, insomma un artista a 360 gradi. Uno showman, no? Come si può dire? Se ti serve un collaboratore noi siamo qui. Vediamo come te la cavi con questa prova, dopodiché esamineremo insieme a tutta la commissione. Posso dire di fare un applauso alla presentatrice qui, dai, un applauso, è bravissima. Grazie, allora, 60 secondi a disposizione, 3, 2, 1, in bocca al lupo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.